Anticorruzione e trasparenza perché vengono sempre indicati insieme come se fossero dei gemelli e soprattutto quali sono i riferimenti normativi che ci dobbiamo andare a studiare o perlomeno quelli principali tutte le volte che dobbiamo prepararci in materia di anticorruzione e trasparenza e sono tante perché si tratta di uno degli argomenti sempre chiesti nei concorsi in pubblica amministrazione. Lo vediamo in questo video prima però ti ricordo se non l'hai ancora fatto di iscriverti al canale così come sempre ti ricordo se vuoi di andare a dare un'occhiata ai video corsi che preparo per la piattaforma www.formazionediritto.it sulle principali materie giuridiche utili per la preparazione a concorsi ed esami magari può essere un valido modo per potersi preparare sfruttando le tecnologie digitali ed avere in testa in maniera rapida la materia puoi andare a dargli un'occhiata se sei interessato ma torniamo alla nostra anticorruzione e trasparenza due termini che hanno significati evidentemente differenti ma che di fatto ormai vengono utilizzati sempre insieme. E perché questo? E soprattutto da quando è che di fatto le cose stanno così? Già perché se noi andiamo bene a vedere di trasparenza nell'ambito soprattutto della pubblica amministrazione se ne parla da diversi decenni in particolar modo già la legge 241-90 la inserisce come uno dei criteri fondamentali all'articolo 1 in cui deve essere orientata all'attività della pubblica amministrazione e del resto proprio nella legge 241-90 troviamo l'introduzione del cosiddetto accesso agli atti e quindi della possibilità per i singoli cittadini a determinate condizioni di poter avere un accesso agli atti in questo caso però con la necessità di un interesse concreto attuale e giuridicamente tutelato. tuttavia poi però successivamente si è capito che la trasparenza può essere veramente uno di quei sistemi con cui cercare di abbattere o quantomeno ridurre al massimo il fenomeno della corruzione in pubblica amministrazione un fenomeno che soprattutto in Italia è particolarmente avvertito. Perché questo? Perché il fatto di rendere accessibile e sempre magari più accessibile l'attività della pubblica amministrazione sia ai cittadini ma anche poi alle autorità preposte e in qualche modo evidentemente può determinare una forte deterrenza in coloro che magari vogliono avere comportamenti corruttivi. Si è deciso di intervenire da un punto di vista si dice preventivo insomma quando c'è un fenomeno in particolar modo un fenomeno costituente reato si può e si deve intervenire in due modi uno da un punto di vista preventivo ed uno da un punto di vista repressivo. Certamente da un punto di vista repressivo si interviene ci sono le norme chiaramente penali però è chiaro che se si interviene solo da un punto di vista repressivo si è sempre un pochettino di rincorsa non si riesce mai a frenare il fenomeno mentre invece se si interviene anche e soprattutto da un punto di vista preventivo beh forse questa può essere la strada giusta e quindi anche aderendo a quelle che sono state delle normative europee al riguardo l'Italia ha deciso di intraprendere questa strada sfruttando proprio come strumento proprio quello della trasparenza ecco perché quando parliamo di anticorruzione accanto ci mettiamo sempre la trasparenza è lo strumento che in qualche modo ci permette di poter abbattere il più possibile questo fenomeno così è stato ritenuto dal legislatore il quale poi e qui veniamo ai riferimenti normativi che in qualche modo dobbiamo iniziare a studiarci è intervenuto legislativamente con quella che è la legge più importante al riguardo il faro che dobbiamo sempre tenere in mente che è la legge anticorruzione la legge 190 del 2012 detta anche legge severino che interviene in maniera complessa allora innanzitutto istituisce l'anac quindi l'autorità nazionale anticorruzione ora io qui citerò la legge le istituzioni che magari sono state create altri riferimenti normativi non andremo a vederceli proprio concretamente per quelli vi rimando ai vostri strumenti di studio ai vostri manuali e magari perché no anche il video corso diritto amministrativo che ho preparato per formazione diritto punto it però in questo video credo che la cosa più importante sia darci un attimino un quadro di quelle che possono essere appunto le normative fondamentali dicevamo quindi la legge 190 del 2012 che istituisce l'anac e che all'anac affida la redazione del piano nazionale anticorruzione che poi a livello di decentramento amministrativo si traduce nei piani triennali dell'anticorruzione e trasparenza il ptpct brutto acronimo e che poi stabilisce anche per esempio l'introduzione del responsabile anticorruzione che coincide con le responsabili della trasparenza e che nei comuni è normalmente il segretario comunale poi però questa legge avverte la necessità che si intervenga sulla trasparenza creando riordinando in qualche modo tutta la materia che sino a quel momento era stata emanata e quindi stabilendo le drata o meglio utilizzando lo strumento della delega legislativa demandando al governo la realizzazione di un codice per la trasparenza che avviene con il decreto legislativo 33 2013 ecco un'altra normativa che ci dobbiamo assolutamente ricordare quindi un codice della trasparenza dove vengono indicati in qualche modo tutta quella che è la documentazione che anche via web deve essere in qualche modo fornita comunicata proprio anche per una trasparenza digitale in particolar modo il codice della trasparenza ha poi visto successivamente una modifica introdotta con un successivo decreto legislativo che è il 97 del 2016 e con i quali sono stati introdotti gli istituti molto importanti dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato ho fatto anche un video se non ricordo male su accesso civico e accesso civico generalizzato per differenziarlo proprio dall'accesso semplice che era quello stabilito a determinate condizioni dalla legge sul procedimento amministrativo ma poi ancora la legge 190 del 2012 delega sempre il governo anche a stabilire quelle che sono le normative in materia di incarichi ai pubblici dipendenti quindi in particolar modo precisando le ipotesi di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità e questo lo fa in un altro provvedimento normativo che è il decreto legislativo 39 del 2013 quindi alta normativa che dobbiamo mettere lì e ricordare poi ancora sempre la legge 190 2012 intravede come uno dei principali strumenti per poter combattere il fenomeno della corruzione quello di intervenire chiaramente lato dei dipendenti pubblici quindi con la creazione e con l'implementazione di un codice di comportamento ovviamente il codice di comportamento noi non lo troviamo nella legge 190 del 2012 che ne dà le direttive fondamentali e poi invece è stato attuato con lo strumento del dpr quindi il decreto del presidente della repubblica ed è il dpr 62 2013 il codice di comportamento dei dipendenti pubblici dove appunto troviamo anche una serie di normative proprio per cercare di in qualche modo eliminare la radice o quantomeno prevenire comportamenti corruttivi poi successivamente quindi successivamente a queste leggi dobbiamo anche citare quanto è avvenuto ad esempio in materia di contratti pubblici perché in materia di contratti pubblici chiaramente si avverte in maniera molto molto preeminente l'esigenza di combattere fenomeni corruttivi ecco perché anche nel decreto legislativo 50 2016 cioè nel codice dei contratti pubblici e sue modifiche successive troviamo diverse norme volte ad esempio a prevedere le ipotesi di astensione o di conflitto di interesse sempre tornando poi alla legge 190 del 2012 dobbiamo citare ad esempio anche altri due istituti che sono stati inseriti in particolar modo modificando il tupi cioè modificando il testo unico del pubblico impiego quindi il decreto legislativo 165 del 2001 in questo caso parliamo degli istituti del whistleblower e del pantuflage perdonerete la mia pronuncia sia inglese francese sicuramente non corretta però sono istituti che vanno in qualche modo nella direzione di prevedere fenomeni corruttivi per esempio nel whistleblower cercare di garantire il più possibile il soggetto che denuncia fenomeni corruttivi all'interno della pubblica amministrazione o nel pantuflage di prevedere ipotesi in cui magari chi ha lavorato già nella pubblica amministrazione con incarichi di dirigenza e poi magari ha cessato il proprio lavoro in pubblica amministrazione possa sfruttare questa sua progressa conoscenza magari per appunto favorire successivamente eventuali nuovi operatori presso i quali magari l'ex dipendente pubblico è andato a lavorare magari faremo un video specifico proprio su questi due istituti sempre molto interessanti ed ancora sempre alle 290 del 2012 beh stabilisce anche una serie di normative per quel che riguarda in particolar modo la formazione sull'anticorruzione dei dipendenti pubblici e la rotazione in particolar modo dei dipendenti e dei dirigenti e ancora anche ad esempio tutta quella normativa legata all'anticorruzione nei concorsi pubblici insomma per capirci la legge 190 2012 la teniamo proprio come faro fondamentale poi accanto dobbiamo ovviamente andarci a vedere quello che il codice della trasparenza il decreto legislativo 33 del 2013 ancora il decreto legislativo 39 2013 in materia di incarichi pubblici e quindi delle iposte di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e poi certamente il dpr 62 2013 in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici oltre chiaramente a tutte le modifiche al testo unico appunto sul pubblico impiego che sono state introdotte ecco queste sono probabilmente non saranno tutte ma certamente sono le normativi riferimenti normativi fondamentali che quando parliamo di anticorruzione e trasparenza dobbiamo sempre comunque tenere a mente io mi fermo qui per il momento o poi magari faremo dei video più specifici e ancora più specifici su questa materia se siete interessati ti invito ad iscriverti al canale e a dare un'occhiata ai video corsi che preparo per la piattaforma giuridica formazione diritto punto it e ci vediamo al prossimo video